Un anno difficile, ma sicuramente questo Consiglio regionale ha lavorato con il contenimento dei costi, ma anche con l'approvazione di importanti leggi, tra cui la legge urbanistica, una legge per esempio per le aree protette e speriamo soprattutto di poter nel prossimo anno fare un accordo su una nuova legge elettorale e di approvare al più presto il bilancio anche per poter dare piena operatività al governo regionale. L'augurio che voglio fare ai piemontesi è quello di ritrovare un po' di serenità, speriamo che veramente questa crisi si possa più presto mettere alle spalle e soprattutto l'augurio di tanto lavoro, possibilità di lavoro in particolare per i giovani, augurio a tutti e in particolare ai giovani. Un bilancio sull'attività del Consiglio regionale che nel 2013 ha approvato 22 leggi e svolto 77 sedute d'aula per un totale di 44 giornate di lavori. Questo il tema illustrato dal Presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo e dall'Ufficio di Presidenza il 20 dicembre durante la tradizionale conferenza stampa di fine anno. La consulta regionale europea, nutrita attività quest'anno, che vede come punto di arriva e punto di partenza il trentesimo anniversario del concorso Diventiamo Cittadini Europei, che è diventato un nuovo concorso con i nuovi metodi di dialogo che utilizzano i giovani, con la multimedialità, con la comunicazione diretta. Noi confidiamo che questo possa essere un progetto che possa andare ancora molto in là, cercando di trasferire quel messaggio che è sempre più attuale, sempre più utile, del diventare dei buoni cittadini europei. Consiglio regionale del Piemonte che si è impegnato in questi anni difficili di tagli alle risorse, a razionalizzare i suoi servizi e a rendere più efficiente quello che è l'istituzione Consiglio regionale. Da parte dell'osservatorio regionale sul fenomeno dell'usura, si lavora e si continua a lavorare per mettere in evidenza questa grande piaga, il gioco d'azzardo legato e parlare soprattutto ai giovani e andare nelle scuole. Continueremo nel 2014 con poco budget ma con tanta determinazione. Io ho un giudizio molto positivo del bilancio di quest'anno, dell'attività, dei settori che mi sono stati affidati come competenza, consulte femminili, biblioteca, URP, rapporti col pubblico. Devo dire che il maggior merito va al personale che è stato veramente bravo. Nonostante la regione sia stata messa in una situazione di difficoltà addirittura nel lavoro, il personale è stato veramente all'altezza, più che all'altezza dei suoi compiti. Un anno di attività molto importante, tra l'altro tante iniziative. Io non posso che ringraziare tutte le associazioni che hanno aderito quest'anno alla consulta dei giovani. Abbiamo portato avanti un programma assolutamente importante con delle iniziative di spessore, talune anche come quelle che abbiamo portato avanti al Salone del Libro. C'è un crescente interesse attorno alla consulta giovane e speriamo che anche per il prossimo anno, il 2014, questo interesse sia concretizzato da altre iscrizioni alla consulta perché per noi è un motivo di assoluto vanto.